E oggi parliamo dei cantieri edili nei quali purtroppo è ancora alto il numero degli infortuni. Nando Nunziante. Negli ultimi 5 anni il numero degli infortuni sul lavoro nell'edilizia si è quasi dimezzato, ma circa il 40% degli incidenti avviene ancora oggi proprio nei cantieri edili. Su 157 morti negli ultimi 12 mesi, 52, ovvero il 33%, sono avvenute per cadute dall'alto. Pericolose anche le cosiddette interferenze, ovvero come in questo cantiere, quando in spazi angusti agiscono contemporaneamente professionalità diverse. Caschi, guanti, scarpe antinfortunistica, occhiali di protezione, imbragature e cinture di sicurezza. E l'attrezzatura che deve essere fornita obbligatoriamente a chi lavora in un cantiere. Ma purtroppo non sempre così fondamentale poi è sapere come usare correttamente l'attrezzatura. E' stato informato su come usare tutte le attrezzature di sicurezza? Ci hanno fatto dei corsi e ci hanno informato sulla sicurezza, come procede con la sicurezza, i caschi, i guanti. Secondo lei è tutto necessario? E' certo necessario. I danni, diciamo, permanenti per gli operai, è proprio quello che non usano, caschi, guanti, scarpe, tutto quanto per la sicurezza. Ma bastano tutte queste attrezzature perché un cantiere sia sicuro? Assolutamente no. A monte serve prevenire il rischio, qualsiasi rischio per il lavoratore. Quindi la sicurezza non deve essere un elemento accessorio all'interno di un cantiere, bensì deve essere un qualcosa che deve essere elaborato già nella fase del progetto. Vanno eliminati i rischi alla fonte e poi con un corretto utilizzo dei dpi, appunto, di queste attrezzature, si deve assolutamente eliminare qualsiasi forma di rischio per ogni singolo lavoratore. Secondo lei dovrebbero essere di più i controlli? Secondo me un po' sì, ci dovrebbe essere un po' di più di controlli. Cioè nella nostra non facciamo caso a togliere i caschi, li togliamo per lavorare meglio, però è necessario avere i caschi perché non si sa mai di una caduta dall'alto o qualcosa. Tutti devono sapere cosa fanno, i rischi verso i quali vanno incontro e devono essere in grado di assumere comportamenti in grado di tutelare la loro sicurezza nell'espletamento della funzione lavorativa. Quindi è fondamentale l'informazione, ma voi prevedete anche degli incentivi? È fondamentale l'informazione, la formazione e l'addestramento. INAIL prevede degli incentivi che premiano le imprese virtuose e mette anche in finanziamento delle cospicue somme. Quest'anno abbiamo messo 307 milioni di euro per le imprese che si aggiudicheranno in graduatoria delle posizioni di merito per quanto riguarda progetti sulla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Servono maggiori controlli? Noi li accettiamo volentieri, addirittura auspichiamo maggiori controlli. I nostri rapporti con IMSI, INAIL e Ispettorato del Lavoro sono ottimi. Riteniamo che attraverso loro probabilmente riusciamo anche a debellare la mala pianta del lavoro nero che è quella che maggiormente ci danneggia. Le imprese sane vengono letteralmente danneggiate. Io dico che addirittura c'è un'economia criminale contro di noi. Quindi auspichiamo maggiori controlli quando questi controlli aiuteranno anche a debellare questa mala pianta. E per la sicurezza sul lavoro c'è anche una buona notizia. Nuovi stanziamenti per le imprese che investono in sicurezza appunto. Lo annuncia la TGR in occasione della nostra campagna di informazione Esther Rotoli, direttore centrale della sicurezza dell'INAIL. Da Roma, Renato Cantore. Un miliardo di sgravi contributivi per le aziende virtuose, quelle dove non si sono verificati incidenti. Più di 800 milioni di finanziamenti per gli investimenti in sicurezza. Sono in termini economici i numeri della prevenzione nell'ultimo triennio. L'ultimo bando per le imprese è scaduto a fine maggio e l'INAIL è già pronta a rilanciare. Mettiamo a disposizione altri 30 milioni di euro. Sono, diciamo, le imprese che possono partecipare a questo bando sono le piccole e micro imprese, che rappresentano tra l'altro circa il 90% del stessuto produttivo italiano. Quindi è finalizzato e focalizzato su quel target. Le piccole e medie imprese debbano fare attenzione nel mese di luglio al sito dell'INAIL dove sarà pubblicato il bando. È dedicato specificamente al settore dell'agricoltura, dell'edilizia e dell'apideo. L'agricoltura perché sappiamo che è uno, insieme all'edilizia, fra i settori a più alto tasso infortunistico. Conosciamo le cause dell'agricoltura, principalmente il ribaltamento del trattore. Noi vogliamo intervenire per consentire alle aziende di revisionare i trattori, visto anche il decreto che impone una revisione del trattore obbligatoria entro giugno 2015. Grazie.